e nessuno che interviene diamo il buongiorno perché so che in viaggio se non sbaglio verso firenze non credo a trovare renzi ma ce lo facciamo dire da lui maria di nolfi presidente del popolo della famiglia buongiorno buongiorno a voi verso firenze no sta andando esattamente oggi perché è una giornata molto importante molto ecco in un giorno in cui si parla di questa protesta di questo show per il global strike for the future oggi si verrà si riparlerà e si presenterà il reddito di maternità che è la battaglia principale del popolo della famiglia che per voi mario è una proposta per il futuro dell'italia quanto per il resto del pianeta non volevo esagerare più che far nascere bambini il futuro non so come rappresentarlo sicuramente il reddito di paternità serve a far nascere bambini parla di futuro soprattutto cerca di evitare un futuro triste e desertificato perché poi dopo insomma se vogliamo parlare di ambiente ecco questo è un tema molto interessante perché leggevo qualche parlamentare americana molto nota l'aucasio cortetto si 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 che ha un po di contraddizioni comunque un po' contraddittoria tra le cose ha detto anche fare figli potrebbe inquinare il pianeta ecco spagati diciamo bene che il futuro del pianeta è affidato al fare figli insomma questo è un dato che noi vogliamo sottolineare e indubbiamente oggi la presentazione a Firenze del reddito di maternità ieri sera ho finito a mezzanotte a Prato insomma è un giro d'italia che continua che vede davvero tante decine di migliaia di persone venire dai nostri tavolini a firmare questa proposta di legge quindi vuol dire che c'è tanta gente che ha voglia di rivedere o nascere un'italia a crescita non zero diciamo che attualmente purtroppo il saldo tra nati e morti ogni anno è più drammaticamente a favore dei morti questo vuol dire un'italia che muore senti senti mario no hai parlato appunto di futuro di giovani ti ha a che fare con dei giovani in famiglia e neanche pochi e noi stiamo parlando anche prima pensa con giorgio cremaschi che è una persona magari che politicamente sta molto lontano da te ma notavamo un po di invidia da parte degli adulti in generale nei confronti dei giovani non so se invidia del fatto che sono giovani appunto e tu che ne pensi di parte ti è mai capitato mario ma certo l'invidia la provo moltissimo io ho la fortuna di potermi confrontare da 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 troppo tempo con l'universo adolescenziale studentesco giovanile che sono una figlia di 23 anni ormai quindi ho potuto attraversare tutta la loro evoluzione sono molto invidioso della dimensione della conoscenza che è dentro le loro mani che è la meraviglia eccezionale quando noi eravamo piccolini eh per studiare e sapere dovevamo consultare quei topi pesantissimi le enciclopedie loro hanno tutti in uno smartphone ed è bellissima questa cosa ma possono sapere tutto ho paura e qualche volta questo sia diventato una limitazione alla conoscenza è il paradosso assoluto è un conto a sapere è un conto a apprendere e sai ma è poter sapere e essere incuriositi e invece poi ci si finisce a infugnare magari una dimensione per cui lo smartphone lo usi solo per il social network col tuo massimo livello di conoscenza e consultare wikipedia quando serve invece mi piacerebbe ecco e da questo non sono invidioso ma vorrei trasmettere un po' di passione avere dei giovani molto più appassionati di conoscenza rispetto a quello che stanno facendo attualmente insomma mi piacerebbe vederli da questo punto di vista coltivando l'invidia per le potenzialità che sono a loro messe da disposizione vorrei vederle sfruttare al massimo livello possibile e questo è un bel messaggio veramente un bel messaggio perché poi adesso sembrerà una banalità ma il futuro è veramente dei più giovani dobbiamo stare loro vicini e non criticarli ripeto perché qui diciamo sempre questi non fanno niente stanno dalla mattina alla sera a giocare sui videogiochi eccetera eccetera poi una volta che si organizzano fanno uno sciopero per il clima iniziative e vogliono soltanto saltare un giorno di scuola e sto molto cioè veramente mettetevi d'accordo io non so più non so più cosa dire perché poi Mario vedi noi qui a Radio Cusano Campus ne ospitiamo tanti di ragazzi per l'alternanza scuola lavoro e stiamo a contatto con questi giovani tra i 15 16 17 anni sono molto meglio di come di come ce li raccontano di sicuro Mario sono meglio degli adulti che si passano le foto e i video di Giulia Sarti eh tra onorevoli e giornalisti perché poi sono questi i pulpiti da quale arriva la predica mi sono ritrovato ieri dopo il convegno fatto a Prato nella trasmissione televisiva di Paolo del Deppio a discutere di questa vicenda di Giulia Sarti ovviamente la questione del Giulia Sarti ha la sua rilevanza ma relativa io vorrei sempre ricordare che nella vicenda Giulia Sarti la questione che rimane più problematica è che una persona che era membro della commissione antimafia poi presidente della commissione giustizia parlamentare della Repubblica oltre a imbrogliare sui bonifici e vabbè quello la sappiamo ormai è un problema interno quello è un problema interno però hanno fatto questo oltre a prendersi diciamo un signore che da hacker gli doveva controllare una serie di cose ha installato una serie di videocamere dentro l'abitazione per filmare chiunque passasse nella sua abitazione tra l'altro utilizzando soldi risparmiati diciamo così da quei famosi bonifici annullati al movimento 156 ora a me sembra che la che loro siano stati bravissimi a distrarci mettendoci tutti a discutere delle forme di Giulia Sarti e di quanto sia sbagliato trasmetterte le via whatsapp ma la questione centrale noi non la stiamo ancora affrontando no allora però il tutto fatto sulla pelle di questa ragazza perché mica lo so se sulla pelle di questa ragazza questa ragazza ha il suo elemento che non è una ragazza ripeto deputato della Repubblica prima membro della commissione antimafia poi presidente della commissione giustizia che ha fatto una denuncia completamente infondata allora questo è vero Mario questo allora Mario su questo ha pienamente ragione nel senso non è una che passa per strada abbiamo abbiamo completamente perso di vista il motivo per il quale poi è venuta fuori tutta questa vicenda si è o hanno fatto perdere di vista che ricordiamoci sempre che dentro questa storia non c'è poca gente rilevante c'è il portavoce del presidente del consiglio tanto per dirne uno uno che sa orientarla un po bene la comunicazione perché è molto bravo fin dai tempi del grande fratello attenzione amici cioè noi siamo qui adesso tutti a fare la stessa discussione perché il problema sembra essere i video trasmissivi a whatsapp e ci siamo dimenticati che qui è stata installata nella casa della presidenza della commissione giustizia un sistema di videoregistrazione che ha insaputa di quelli che andavano a visitarla li registrava tutto bene è tutto a posto non non suscita nessun punto interrogativo con videocamere della grandezza di una moneta di due euro questo ci viene comunicato perché questa cosa non è stata mai smentita mettiamo berlusconi mettiamo l'avesse fatto berlusconi mario ma figuriamoci ma figuriamo l'avesse fatta qualsiasi maschio per firmare i suoi rapporti sessuali con le donne ma sarebbe stato immediatamente impiccato in pubblica piazza invece noi stiamo da adesso raccontando una giulia sarti eroina che deve salvarsi dall'espulsione nel movimento 5 stelle perché lei ha detto chiaramente attenti perché se mi espellete io poi dico è perché questo è il passaggio che nessuno ha colto ma a un certo punto giulia sarti di questa vicenda dice io non me ne vado manco per niente dal movimento 5 be l'amore